Buonasera a tutti, buonasera, grazie per la vostra presenza, così numerosa, gratisco moltissimo. Questa è la Saratoga Spring Judo Orchestra, veniamo dallo stato di New York, da Saratoga Spring. Siamo a 2 ore 30 da New York City. Siamo un poco più a nord della capitale dello stato di New York che è Albany. Siamo 30 minuti da Albany, verso il sud, tra 87 e nord, quindi siamo di residenza lì. Io risiedo già in America da parecchi anni e sono il direttore di quest'orchestra già da tre anni. Siamo qui in Italia per la prima volta al Festival dell'Orchestra Giovanili, quindi abbiamo questa performance qui questa sera a Montecatini. Mi dicono anche per consiglia, perché so che non c'è microfono, se si sente, va bene così? Grazie. Questa performance qui questa sera a Montecatini e poi domani sera abbiamo alla Loggia dell'Anza a Firenze. E poi l'ultimo concerto l'abbiamo a Perugia, al monastero di Santa Giuliana. Mancando un programma, poi nel frappè, però già qualche tempo fa, poi ci sono stati dei piccoli cambiamenti, quindi vorrei pregare la vostra gentilezza, solo delle piccole aggiunte e dei piccoli cambiamenti del programma, perché in effetti in modo largo così hanno scritto un po' tutte le cose, non hanno mancato di nulla, però abbiamo aggiunto una cosa all'inizio che vado ad annunciare così, di seguito, come va il programma. Il piano concerto di Tommaso Giordani lo eseguiremo domani sera a Firenze, perché il pianoforte sarà disponibile. Qui e a Perugia no, non c'era la possibilità di portare un pianoforte e quindi seguiremo tutto il programma, eccetto il concerto, come vi dicevo appunto. I would welcome all of you here, good evening to everyone. I appreciate very much your presence. We are very very happy to be here in Italy, which I miss so very much. I forgot to tell you that I'm from Naples, a little bit south of Montecatini. A little bit south. I miss Italy very much. I miss Homo very much. But my home has been in the United States of America for about 20 years and I'm very happy and honored to be also an American citizen. My name is Joaquino Longobardi and I've been the very fortunate friend, conductor, friend mostly of these wonderful young musicians of the Saratoga Springs Jugar Orchestra. We are based in the United States in Saratoga Springs, which is about 30 minutes from the city capital of New York State. And I'm ready to repeat. We have this performance here this evening with the accompaniment of the grass section. It's a very beautiful way to remember Italy, which I love very much. It must be a G. Then tomorrow evening we have another performance at L'Oggi del Lanzo in Firenze and then a performance, final performance will be in Perugia at the Monasterio of Santa Giuliana. We have a study, as I was mentioning also in Italian before, a study change and addition in the program you can see because it was at the beginning when we actually sent the idea of what we would have liked to perform for these three concerts. So there will be an additional, we were going to start actually with the Sinfonia Quattro by Tommaso Albinoni and the concerto of Francesco Durante per archi in minor, fa minore, will be the last piece we'll actually perform. The piano concerto you will see here on the program will not be performed tonight but only tomorrow night in Firenze because that was the only location that was easy for us to have an instrument, the piano available. So please excuse for what I hope it's not going to be an inconvenient and again welcome to all of you in this wonderful place of the Montecat-in-Termin I'm very happy to be here on behalf of the orchestra, we thank you very much and enjoy the program. So again we start with the Sinfonia Quattro by Tommaso Albinoni. Thank you very much, grazie.